Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e vituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamandolo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale at tin.it Grazie a tutti come si suol dire. Stasera il pubblico sta arrivando ancora quindi stiamo aspettando un po' che si riempi la piazza. Il 16 ci sarà la finalissima, sono 23 cantanti quindi che si daranno, come io dico sempre, battaglia. Quest'anno ci sarà in più il premio dedicato a mia mamma nella Rocchesi che è stata la prima cantante cervinarese ad uscire fuori e a fare due 45 giri all'epoca negli anni 60 quindi sarà un po' particolare per me suonare e pensare a certe cose. Un'edizione questa che resterà nella storia o una classica edizione? Ci hanno fatto dei complimenti anche ai personaggi che stanno nel mondo della musica. È piaciuto pure alle persone, alla gente. Niente, sono soddisfatti e siamo anche noi soddisfatti di questa cosa. Quale canzone ti ha più preso e soprattutto quale canzone pensi abbia più reso nella prima serata? Non mi posso esprimere perché sono uno dei musicisti e quindi non posso dire che cosa può piacere a me. Sicuramente ci sono alcuni pezzi che mi piacciono più di altri perché poi da musicista alcuni pezzi mi trasportano di più anche musicalmente. Diciamo che ci sono 5-6 pezzi che mi piacciono molto e secondo me tra questi 5-6 ci saranno i 3 sul podio.